Well, ho appena iniziato la registrazione, dammi un attimo, perché l'outro lo faccio dopo, vi dico tutto un paio di informazioni dopo, perché Are we connected? Siamo connessi, ve lo trado col volo, dopo faccio tutto intro e cose cagate del genere Calmo, abbiamo un'anima Eccellente Mi sto carando sotto, davvero eccellente Madonna, ho la pelle d'oca, ora Noi potremmo iniziare Per prima cosa Devi creare un vessallo, un vassallo scusatemi Seleziona la testa che preferisci Ok Quindi iniziamo con questa Select the torso that you prefer Sono tutti identici Ah no, ok, non è vero, non è vero Facciamo questo Select the legs that you prefer Sono identiche Però prenderò questa qua This is your body Questo è il tuo corpo Lo accetti? Sì, lo accetto Eccellente Hai creato una bellissima, una magnifica forma Ora Lasciaci Ah, lasciaci creare una mentalità come la tua Qual è il tuo cibo preferito? Dolce Soffice Salato Pain Cold Freddo Pain Dovrebbe essere dolore ma non lo capisco Ma io dico Salato Il tuo Il tuo Favorito Il tuo Il miglior Tipo Di sangue Ma io Io sono Io sono B positivo Quindi metto B Rosso Quale colore è il tuo preferito? Rosso Blu Grigio C'è Verde oceano Io dico blu Anche se è bianco Please give it a gift Dagli un regalo Gentilezza Mentalità Ambizione Coraggio Voce Kindness Gentilezza How do you feel about your creation? It will not Here Cosa pensi Della tua creazione Lui non sentirà Raga ma che cazzo Speranza Sì Ho risposto correttamente Tu hai appena scoperto Sai che potrebbe Soffrire O Seizo non so cosa voglio dire Ma è soffrire di base So che posso Hai capito Name Chiama il tuo vassallo Lo chiamo fra ragazzi Non mi voglio chiamare Polar Perché questa avventura Me la voglio godere Dopo vi spiego perché Probabilmente ho fatto tipo Una Una intro dove dicevo Che avrei detto le cose dopo E quindi vi sto ripetendo le cose We called it Fra L'abbiamo chiamato Fra Mi sta battendo fortissimo il cuore Voi non avete idea Fra Mi chiamo Fra Fra Of course Di certo 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 Loro sono la stessa persona Fra Grazie Per il tuo tempo Le tue risposte Sono state Le tue bellezze La tua beautiful La tua bellissima creazione Oddio aspettate No one can choose Ok Nessuno può essere Non può decidere Chi essere in questo mondo Il tuo vero name Il vero nome In realtà E Cristo Ragazzi mi sono preso Davvero Davvero Molto male Comunque Ehi 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 Oggi Siamo tornati Su un gioco Attesissimo da me Che ho Ho letto su twitter Un paio di leak E ho letto E ho letto Wow Wow Infatti davvero Questo è Undertale 2 E Delta Run Creato dallo stesso Toby Fox Ragazzi sono Agitatissimo E cerco di fare Tutti i video di seguito Perché io Poi dovrò andare A Luca Comics E quindi me lo voglio Godere tutto Chris Chris Se non ti sveglierai Sarai in ritardo Per scuola Quindi è un mondo Parallel Non so niente Non so nulla Perché io Non me lo sono spoilerato Visto che l'hanno fatto Molti inglesi Ma non ho letto nulla Ti aspetterò fuori D'accordo E noi non rispondiamo Perché siamo persone orribili Ok Abbiamo la maglia di Ciara Questa cosa non Però abbiamo le stesse Abbiamo gli stessi capelli Abbiamo gli stessi capelli Allora possiamo Possiamo andare in giro Ci sono le cd Sotto il tuo letto Classici Jets Religiosi SK C'è anche una Console da game Ha un controller normale E uno Senza Filo Qua dice che c'è una foto Con Tutti felici Tranne che c'è uno Che ha una Maglietta Con una Con una Una lacrima Non ho ben capito E' un computer Potrebbero esserci No ci sono molti Molte scatole sotto Piene di libri vecchi Sto esplorando tutto raga Vabbè A cosa Delle vestiti E' un bellissimo giorno It's a beautiful day outside It's a red E' un Vagone rosso Con Una Una Gabbia per Uccelli dentro Sembra che Sia un pochettino Distrutta Ok ho visto Tutto Visto tutto Questa è la casa tutorial Raga io mi prendo Malissimo Io ho i Fields Cactus Non c'è nulla Di dire Della Cactus Ci sono dei Pastelli Ci sono Ok non c'è nessuno E poi c'è il nostro specchio It's only you E' una citazione al primo Ragazzi La porta è chiusa Fantastico Ci saranno tantissime Secondo me citazioni al primo Scusatemi Perché 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 Comunque Cosa Ci sono molti libri Tales of Snails Storybook Snails Sono tutte le cose Sulle lumache Perché Toriel Come ci ricordiamo Ha tantissimo Cioè Ama le lumache Wow Che bella casa Una bellissima ambientazione Vabbè si Io sto guardando un po' tutto Ditemi nei commenti Se volete che io guardi tutto Perché Se Non lo volete Non guardo Ce lo faccio Magari la taglio Volevo Tenerla appunto come Eh Il suo foto Sul frigo Sei tu Tua madre E il tuo fratello Ragazzi Abbiamo un fratello Wow Wow Abbiamo un fratello La situazione It's a C'è Iriel The beloved Wow Davvero sono Oh Chris Eccoti qui Abbiamo Potremmo ancora farcela Chris È un bellissimo giorno oggi Non pensi Spero che Starà così Finché Azelon Non visiterà il weekend Ma Spero After the second University Will you stay Enjoying coming home Vorrei stare Ti piacerà comunque stare A casa Con noi Dopo aver fatto l'università Rega C'è Azel È vivo Azel C'è Undyne Calmi tutti Calmi Tutti Io sono Completamente Pazzo Per questo gioco La colonna sonora No vabbè Io adesso Metto a piangere Io ora Mi metto a piangere Io ora piango Giuro che piango No vabbè Dai Wow 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 Non me l'aspetta Alphys Professoressa So Qualcuno ha Ok Ciao Chris Pensavo che non Saresti venuto Con noi Stiamo facendo Un progetto Di gruppo Questo mese Quindi Cerca di Camminare in giro E trovare un partner Devo vedere Se il volume Della registrazione È alto Ma credo un po' Sì Quindi lo abbasserò Perché effettivamente È molto 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 alto Da come si vede Dal mio OBS Perché sto registrando Con l'OBS Però io lo sento Un pochettino Più alto Quindi non vorrei Che si sfancolasse Tutto Quindi Cerchiamo un tipo Ehi Chris Come va? Hai visto Hai perso La tua matita? No ti è No ti è No ti è Praticamente Stiamo Dobbiamo scegliere Il nostro Il nostro amico A me piace molto Sto tipo Ah Chris Ancora in ritardo Hai bisogno Di un partner Sono già In Cioè sono già partner Con quello Del Secondo Secondo più secchione Di base Posso pensarci La tua Unica Skill È che potresti Aiutare Molto negli assegnamenti Ah ok Niente Praticamente Mi sa che L'unico con cui Possiamo metterci È quello in alto Sinistra Vabbè A sto punto Chiedo ad Alphys Se possiamo metterci In entrare Con quel tipo Ha appena detto Che in realtà Sta guardando Degli anime Sul suo telefono Dai Sì Sì Mettiamoci partner Ok Miss Alphys Possiamo Avere un gruppo Da tre Cosa No Non approvo Questo Aborto Vuol dire Non lo fate Ma Chris Non ha un partner Noelle Cosa stavi dicendo She was just saying We're fine being alone Siamo Siamo felici A essere Da soli Veramente Volevo solamente Sapere se Potresti Parlare Ed è entrato Un tipo Ciao Susi È vero Che c'era un banco Vuoto È vero C'era un banco Vuoto Sono in ritardo No No Sei a posto Siamo solamente Scegli un partner Per il prossimo gruppo Oh Susi Sei con Chris Bene Ora che sono tutti qui Vi darò Dei compiti Qualcuno ha visto Il 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 Gesso È la terza Volta che Continua a essere A non Non esserci E non posso Non posso iniziare La class Non posso iniziare La lezione Senza questi Quindi devo andare Se nessuno Inizia a parlare Tutti Saranno In In i guai Qualcuno Dai Davvero Per favore Potrebbe esserci Una Una scatola Nel Nei Nei Sarebbe nelle scatole Di emergenza Perché Io e Susi Non possiamo andare A prendere Noel Susi Visto che Sei arrivato in ritardo Perché non vai a prenderla Per me Va bene Whatever Ok Sarebbe un Comunque va bene E Chris Potresti Potresti andare Con lei Per fare in modo Che Lo prenda E non Che vada Nei Casini Grazie Chris See you later Possiamo parlare Con qualcuno Oppure Perché ho paura Che lei Sia una persona Cattiva Però in realtà Non è cattiva Ma si man Ah ok Ti mangi i gessi Oh buon d Chris Non ti avevo visto Mi fa una paura boia No ah ecco Un attimo C'è All'inizio Del gioco C'è La schermata Adesso ve la Ve la posto Tipo qua in mezzo C'è un punto In cui dice Tipo Installando questa cosa Sarai esposto A pericoli E io tipo Puttana quanto Sei figo Come hai detto prima Stremerò Farò tutti i video Di fila Quindi non vedrete Fare intro E altro E altro Perché appunto Devo fare molti video Per il Luca Comics Non hai visto nulla Vero? Non puoi nemmeno parlare No non posso parlare Amico mio Amica mia Chris Adesso mi uccide Come minimo No no Allora Allora Sei partito bene Ehi Dimmi un segreto Lasciati dire un segreto Sì ma stai calmo Le persone silenziosi Mi irritano Pensi che solamente Perché non dici nulla Non posso Sapere esattamente Cosa stai pensando È finita Ho preso Susi Cioè ho visto Susi Mentre mangiava I I Jesse E questa è l'ultima L'ultima sua chance No Ora sarà finalmente espulsa Davvero Chris Non Non far finta di essere scioccata Lo sai che è vero Tutti lo stanno pensando Stanno aspettando Tutti lo vogliono Quindi Congratulazioni Chris Mi hai preso Sono Ho finito Dimmi solo Solo Lasciami dire un'altra cosa Sembra solamente Mi sembra una cosa stupida Essere espulsi Speramente per prendersi lo snack Quindi Chris Se so Che Avrei detto questa cosa Poi le trigger Sarebbe Sarebbe una metafora Perché non essere Espulsi Per qualcosa Di davvero reale Chris Come ti senti? About losing your face Di perdere la tua faccia Cosa cazzo? È uno scherzo No Chris You Tu hai una madre Sarebbe Un Un Sarebbe Davvero vergognoso Se Dovessi Farti Farti bruciare Da lei Vabbè Andiamo avanti We'll get more chalk Prenderemo altri gessetti Vai Torno alla classe E dopo Chris Farai il tuo progetto Il tuo progetto Ah Non mi hai fatto rispondere Non ho cliccato nulla Mi voleva fare Bad good Ma non ho nemmeno risposto Non ti preoccupare A rispondere Se non l'hai fatto Per adesso La tua La tua scelta Non Non serve Vuol dire È un gioco a tempo Contro di lei Probabilmente Cioè Noi dovremmo rispondere Velocemente Andiamo Freak vuol dire Tipo Scherzo della natura È un insulto E se non lo seguissi Ho paura che ci sia La pacifist In questo caso You can walk in isla Poi Not just walking Non sei abituato A andare avanti Con qualcuno Che non ti sta Tenendo la mano Andiamo su Forse è meglio Farcela amico Sapete Beh Questo è il Cassetto Il closet Il Non mi ricordo Come si chiama Avevo una tendenza A essere felici Cosa minchia è Lui Cosa Ehi Chris È solo Sono io Questo è È davvero Davvero molto scuro Dentro E quindi Cosa c'è Non entrerai E vuoi entrare o no E noi non vogliamo Entrare in quel coso Non vogliamo Va bene Allora Se sarai un codardo Allora Allora Non ho finito la frase Entriamo allo stesso momento Va bene Va bene Mi sta già più simpatico È un'opera d'arte Questa è una citazione Perché sei così spaventato Non c'è nulla qui Se non Vecchie cartacce Dobbiamo trovare Un accendino No Un'altra C'è una Una lampadina È strano Non possiamo trovare Non riesco a trovare Uno Un Un switch Un interruttore Penso sia più lontano Scusi Che strano Tipo di magazzino è questo Pensavo di aver raggiunto la fine Invece Ehi Chris Penso che questo armadietto sia Rotto Non ci sono muri Beh Abbiamo Abbiamo lavorato Abbastanza duramente Se Se Alphys Vuole dei Dei Gessetti così In modo così Forte Potrebbe prenderli da sole Andiamocene La porta si chiude Lo sapevo Lo sapevo What the Sarah What the fuck Ehi Questo non è Non è divertente Lasciateci uscire Lasciateci usci Raga Era partita bene Il pavimento Cosa minchia Sta succedendo Cosa minchia Sta succedendo Ragazzi io sono Sono in hype Tantissimo Io c'ho Una caga Che non Dov'è Susi Prima cosa che vedo Non c'è Susi Ok Ok Noi siamo Siamo vivi Strano ma vero E possiamo andare Solamente a destra E c'è una stella No Qua si salva E' l'unica luce Che puoi vedere Di una seconda natura Vorresti uscire E No raga Raga No raga E' Undertale Raga è Ander Io sono Sono preso benissimo Non avete idea La musica è inquietantissima Non so se la sentite Forse parlo troppo Laci meno Quel sasso si è mosso Si stanno muovendo Ma è glitchato O è il mio computer Cos'è E Boh non lo so E Non ho idea di cosa cazzo siano Amici miei Non ho idea Voglio fare una pacifist Ok Voglio fare una pacifist Quindi io non No Soltate ma Non è mica la E' l'underground Questo Ho visto qualcuno andare sopra Questo cos'è invece Raga cosa minchia è No raga Io mi prendo male Questa non era una parte Dell'underground una volta That's too dark To see anything Cioè E' in ogni cosa Ok va bene E qua cosa c'è Ok c'è una Uno scivolo Non posso Ovviamente risalire Cosa cazzo Sei tu Sei tipo allenatore di pokemon No ok No non posso Allora cosa minchia Gli amalgamati Non so Gli amalgamati E uno No non dimmi con il labirinto No ti prego No no Io faccio schifo in queste cose Ok no vabbè Attento Però c'è qualcosa All'inmezzo Verso C'è qualcosa che sta Sbrilocicando La vuoi prendere? Hai preso la 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 sharda di luminescenza Non so tradurre glow shard Sarà E' tipo Un pezzo che luccica Shard Ma questo è una faccia Quanto è scherzi Sta cosa No 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 Ok Ok Devo Devo farmi prendere Probabilmente Devo farmi prendere Sono i cosi di Flawi questi Sono i cosi di Flawi Raga Sono i cosi You buff your body Hai fatto Un bagno nella luce Un Un altare luminoso Dicino a te Spichi No Che distorce L'oscurità Vabbè Full HP restored Vabbè E Oh Ho un Coso In questa landa Solamente i tuoi I tuoi occhi Solamente gli occhi Ciechi Dalla Dall'oscurità Possono vedere la luce Ok Ok Ho un puzzle Quindi devo Devo fare in modo Che Che questo qui Sia cieco Ok Allora Ok Quindi al contrario Uno E Due E Tre E fa al contrario Ok Va bene Ok Wow 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 Io ho una paura Raga Però è fatto davvero Bene Ti mette l'ansia Giusto Ma cosa Cosa cazzo Spero non sia Non sia qualcosa di pacifist o qualcosa del genere Perché altrimenti Ehi Vieni qua Vieni più vicino E Oh Chris Ehi Non mi spaventare così Testa di cazzo Sarà A meno che non vuoi essere Tirato un pugnino Avere un pugnino in faccia Allora Comunque Dove ho trovato un modo per uscire da qua Dove è qui Comunque Non 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 interessa Dobbiamo Quindi Ci hai fatto Entrare tu in questo casino Tu ci fai uscire In poche parole C'ha caga Ok Dirigi la via Sarebbe Quindi Ho una caga Pazzesca Ok Stai camminando davvero molto Molto lentamente Ok Quindi vuole Andare più veloce No Chris Però non fa cazzate No con Chris Eh Susi Però Il fatto che abbiamo il nome E abbiamo già tutto È il contrario di Undertale E Chris C'è qualcuno Che ci sta Ci sta Waving vuol dire salutare Da lassù Qualcuno Qualche idea di cosa voglia Vuole ucciderci Corre Chris Ok 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 Va bene ho capito Ho capito ho capito Ho capito ho capito Devo evitare ste cose Ok 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 È tipo la battaglia di Undyne Questa Oddio 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 Ok Chris Andiamo giù Ok corri Corri Mi sta molto più simpatica adesso Susi Ora che cerca di No Vabbè No vabbè ma sei serio Ma sei serio Ma sei serio No non dimmi che sei serio Non puoi dirmelo Non puoi dirmi che sei serio Amico mio Amico mio Amico mio Amico mio Cosa cosa cazzo è questo gioco Io non taglierò nulla Non taglierò nulla Farò video lunghissimo L'attacca delle palle Cos'è sto posto Susi Oh non sei morto Meno male Hai qualche idea di dove siamo? Non nemmeno io Vorrei sapere se ci sia qualcuno Qua davanti Cosa cazzo Potrebbe essere uno shop Ma la porta è chiusa E nessuno è all'interno È chiuso Fine È chiuso Ed sarà chiuso anche questo Ok c'è un In front of you A castle Ok c'è un castello Sì vabbè sta È una descrizione Castle town Va bene Un castello? Perché c'è un castello dentro A un castello delle emergenze Benvenuti eroi Chi è qua? Non siate allarmati Non sono vostro nemico Per favore venite più velocemente Venite davanti a me Entrambi Ma questo non era il Questo Questo Era il Tragettatore Questo era il Tragettatore Me lo ricordo Benvenuti Sono il principe di questo regno Il regno dell'oscurità Chris Susi Ci sono Mol C'è una leggenda in questa Landa Una leggenda che un giorno Due eroi della luce Arriveranno È la stessa leggenda di coso E Ehm For told by time in space E quindi E E Daranno Ok E compiranno la vera e antica profezia Ehm Trapassando il tempo e lo spazio Per favore eroi Ascoltate la mia storia Ovviamente te l'ascolto Ok Siate Ehm Very well then Ehm Va bene ve la racconto Una volta C'era una volta Una leggenda Che Ehm Veniva a trammandata Durante le Le oscurità Era una Legenda di Speranza e di Ehm Di Legge Un'agenda di luce Vabbè Speranza e amore E io Ok Questa è la delta rune La leggenda della runa delta E che è il nome del gioco Per millenni Luce e oscurità Hanno vissuto in armonia Ehm Dando pace Al mondo Ma Ehm Una volta Questa Questa armonia è stata spezzata Una terribile caminità Ehm Sarebbe Occorsa Il cielo E' stato Ehm Ci fu Nel cielo ci fu Terrore Nella landa E la landa Fu Ehm Fu piena di terrore Ehm Quindi i nostri Cuori Ehm Si Batterono E la E la terra Ehm 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 Su ultimo respiro Alla fine Ehm Spera Speranzosi Tre eroi Ehm Appariranno Alla fine del mondo Un umano Un mostro E un principe Dell'oscurità Solamente loro Possono vedere Le fontane E Ehm Banish Dangers Banish Non so cosa voglio dire Sarà Non lo so Only then Will balance Solamente allora L'armonia sarà Restaurata E il mondo sarà Salvato dalla Destruzione Oggi La fontana Dell'oscurità Le fontane Sono dei geyser Che That gives the lens From Che hanno Dato la forma A questa landa I stand The center of the king Sono sempre Ehm Sono sempre alti Al centro del regno Ma Recentemente Un'altra fontana È apparsa All'orizzonte Ehm E con questa La L'armonia Tra luce E E Oscurità Ha iniziato A Degradarsi È complicatissimo Tradurre raga Davvero Chris e Susie Grazie per aver ascoltato La mia lunga storia Ehm Spero davvero Davvero Che voi siete I due eroi Della leggenda Che qualsiasi Che In qualsiasi modo Ehm I vostri Ehm Enemies Cioè i vostri nemici Saranno Il Il vostro Il vostro Voi avrete il coraggio Di salvare il mondo Delta Warriors Per favore Ehm Non volete accettare Il vostro destino Ehm Nah Ma Ma cosa What Mi Sono Criano Viro Ehm Qualcosa Tipo un Hero O qualcosa Del genere Hai preso La persona Sbagliata Ma Susie Senza di te Il mondo Quindi Il mondo Ehm Anche se il mondo Venisse distrutto Ehm Non sarebbe Il mio problema Potrebbe anche Addirittura essere Divertente Onestamente Comunque Chris Se vuoi Se vuoi far finta Di essere Ehm Un eroe Con questo Persona strana Ehm Va Battene in giro Ehm Cioè fallo Io cercherò Di uscire Da questo posto Susie Wait Cosa minchia Appena è successo Cosa Cosa Oh 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 Gli eroi Stanno già Iniziando a correre via E non hanno E non se ne erano Non sapevano nemmeno Che erano qua Questo è il sense Raga E' la musica Da sense Mio padre Ehm Is gonna Make me Son of the month Sarebbe Monf Dovrebbe essere Farfalla ma Ehm Chi sei Io sono Il ragazzo cattivo Ehm Ah ok Il tuo Ehm Voi due Clown Volete Ehm Volete Chiudere Le nostre fontane Ehm Still picture You guys A clown Cioè Continuando a dire Che siete dei clown Ehm Salvare il mondo Dall'eterna Oscurità Giusto Però Cioè questa musica Non ti fa prendere Se avete le cose Ehm Non provate a negarlo Sappiamo che Andrete ad est E' l'unico Modo per andare a casa Ma Io Lancer Lancer Non mi farò andare Ehm Ehm Got the floor Just a plan To ensure it Ehm Vi ho Vi posso Ve lo posso far mostrare In due Step Step 1 I'd rash you Step 2 You lose Oh Nice Ehm Bello Bel piano Kid Ehm Un bambino Sarebbe Beh Davvero Ehm Ti dispiacerebbe Se usassimo Il nostro Non ero pronto Non ero pronto Eh Chris Spe Spe Ok possiamo Possiamo Ehm Possiamo Act Fight Item Spear Defend Defende nuovo Credo Io provo con Spear Spear Lancer But his name wasn't yellow Ehm Alt clowns Questa Questa cosa E' full of victory E' piena di Vittoria Ok Non ho idea di come funzioni Ehm Dunno Augat Aspetta 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 Act Ok Check Compliment warning Ehm Compliment Dice a Lancer Che non Trovi Differenze Tra le sue Gli suoi vestiti E la sua Il suo Corpo Is attack power Event down Ok va bene Fantastico Ehm Vabbè Sono lines Quindi Ok va bene Stai chietto Stai chietto Stai chietto Quindi eri tu Che ci attaccavi prima Ok 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 Act Lancer Lo Lo warn To watch out for Susie attack Il release himself Ok va bene Ok Ha missato Va bene Fantastico Ehm Madonna 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 Ok 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 Tu adesso spammi Ok no Fantastico Spare Non è Accusato Ehm Just book by On fire Item Non ho una Glow sharp But nothing Happened Va bene Va bene Non so Non so cosa servisse Allora Magari Ho appena sprecato Tutto eh Sono sicuro Di che ho appena Sprecato Tipo tutto Wait Wait a second My bike Is running out of fuel Ok 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 Non l'abbiamo ucciso Non l'abbiamo ucciso Va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Ciao Che cazzo sei Ral sei Chris Susi Ehm È così bello Incontrarvi Sono certo Che diventeremo Grandi amici E Il migliore modo Per andarcene È a est Vero Sì Qui è dove Dove Andremo Ehm Quindi penso Che saremo Solamente ne due Va bene Ralsei Mi stai simpatico Chris Sono un principe Ma Ehm Non ho Ancora Ehm Dei sudditi Quindi sono Stato da solo My whole life Ehm Ho aspettato Tutto il tempo Che voi arrivaste Quindi Sono davvero felice Ehm Penso Voglio Spero Di essere davvero Un Un gran amico Per te Chris Lui mi stai simpatico Dobbiamo cercare Susi Deve essere andata A sud est Puoi Dirigere la strada Quindi di qua Non possiamo andare I really think We should catch up Susi Ok Quindi vediamo Un po' Quanto stiamo registrando Ragazzi Stiamo registrando da Non lo so Però Credo da tanto Quindi direi che Per questo video Possa essere tutto E noi ci becchiamo Il vostro video Sempre di questo Di questa serie qua E niente Au revoir Au revoir Grazie a tutti